Una pepita da quasi 5,5 kg trovata in un'ex città mineraria. Un cercatore dilettante australiano durante una passeggiata con un metal detector nei dintorni di Ballarat è incappato nel pezzo d'oro del valore di quasi 300.000 euro. Si trovava a 60 cm di profondità. Il ritrovamento destra lo stupore, se non lo scetticismo di molti, perché in quella zona si è cercato oro per decenni senza esito.